Sostenere concretamente il fronte libico che sta combattendo Muammar Gaddafi, questo è il punto centrale della riunione del gruppo di contatto in corso Roma, cui partecipano tra gli altri 22 paesi e varie istituzioni finanziarie. Gli obiettivi sono stati resi noti stamani in una prima conferenza stampa. Siamo riuniti per trovare il modo più efficace, ha detto Hillary Clinton, per inviare assistenza finanziaria e altri sostegni per supportare ed aiutare i comitati di opposizione del Consiglio nazionale transitorio. In Libia gli insorti hanno più volte lanciato degli appelli alla comunità internazionale. Occorrono aiuti sia sul piano militare sia a livello umanitario. Il Consiglio nazionale transitorio ha chiesto un finanziamento immediato di un miliardo e mezzo di dollari per sostenere le spese basilari e garantire cibo e assistenza medica ai civili. In discussione in queste ore c'è la creazione di un fondo internazionale con la supervisione degli Stati Uniti.